Buongiorno a tutti, mi chiamo Mariam Stepanian e sono un medico. L'anno 2022 che sta passando è stato un anno estremamente impegnativo per tutti. Abbiamo vissuto dei momenti molto intensi insieme ai nostri pazienti. Abbiamo dato anche la nostra assistenza ai rifugiati di guerra, vedendo così la guerra nei loro occhi. Ma soprattutto abbiamo avuto anche tantissime vittorie. In quest'anno 2022, Vittoria Medical Center ha reso un Natale felice per altri 53 famiglie. Infatti sono nati altri 54 bambini. E dunque restiamo sempre al vostro fianco per proteggere la salute femminile. Ma soprattutto per realizzare dei sogni. I sogni come la nascita di un bambino che desidera una famiglia. Buon Natale a tutti!